Buongiorno, vi vorrei brevemente fare riflettere sulla rilevanza nel nostro Stato e nella nostra società della prossima scadenza del quarantennale della legge antimafia. La legge antimafia fu dovuta alla volontà di due politici, uno dei quali Pio Latorre poi assassinato proprio dalla mafia, e in questa importante legge che si deve a lui vi è un cambio di approccio rispetto al modo in cui il tema della mafia è stato affrontato allo Stato italiano. Come è noto il problema della mafia affonda le sue radici in epoche ben più risalenti, già nel XIX secolo, in particolare la seconda metà del XIX secolo, il fenomeno trova appunto le proprie origini, al di là delle diverse letture storiche che su questo profilo legittimamente i vari interpreti, osservatori, studiosi propongono, ma certamente è un dato di fatto che tra le prime manifestazioni del fenomeno e la legge rognoni la torre, passa quasi un secolo. La mafia era stata prima contrastata essenzialmente sul versante della polizia, con diversi tipi di approcci da forme quasi militare di contrasto durante il periodo fascista, a forme extra penali di prevenzione personale, con misure di polizia che allontanavano i mafiosi dei loro territori, ma con delle controindicazioni non secondarie rispetto al tipo di diffusione nel territorio della problematica. La legge rognoni la torre si fonda su due fondamentali pilastri. Il primo è quello appunto di inserire una norma dedicata specificamente all'associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere di tipo mafioso. Il secondo è il contrasto ai proventi illeciti attraverso le indagini patrimoniali e il sequestro e la confista di tali patrimoni. Su entrambi questi profili è importante riflettere per coprirne il rilievo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.